eccoci qua signori TOTS Premier League quelli che costano di più a parte Ronaldo Messi, Neymar forse allora abbiamo ben 47 pacchettini 47 pacchettini alcuni fanno schifo lo dico già però alcuni scambiabili alcuni no io spero di trovare almeno un TOTS buono scambiabile o utilizzabile che non sarebbe male allora io comincierei a toglierci subito abbiamo i pacchettini promo sono usciti i 45 che hanno il 3.8 beh non è male va bene va bene ok cominciamo con i pacchetti oro 47 pacchettini vediamo il primo ok questo è nullo vai altro pacchetto da 5000 che è il più scarso di tutti di quelli oro però si sa mai che riusciamo a trovare qualcosa nulla di nulla allora pacchetto oro premium 7500 già qui andiamo su pacchettini sempre schifoso attenzione è incredibile proprio lui neanche bandiera altro oro premium bye assolutamente nulla ma questi lo sappiamo tranquilli ci stiamo solo scaldando poi quando arrivano quelli interessanti ok anche questo qui scambiabile è molto bene fiore intiere la scambiamo ok no le maglie non le tengo quasi male vai questo potrebbe essere è tots inglese no oh oh no dimmi che è scambiabile non ci credo non ci credo che ho trovato Rashford non ci voglio credere non ci voglio credere dimmi che è scambiabile dimmi che è scambiabile prego è scambiabile è scambiabile non ci credo un milione mamma mia ho svoltato signori ho svoltato un milione e cento non lo userei mai quindi lo vendo subito un milione e novanta quattro vai sono contentissimo possiamo anche non trovare più niente no se troviamo un qualcos'altro non sarebbe mai pensavo un back to back andiamo al pacchetto twitch prime che dovrebbe essere non scambiabile questo qui pacchetto che ha sempre fatto schifo ecco questa è la mia reazione guarda lì oh è toz però è scrauso è un toz è scrauso ed è anche in prestito signori in prestito questo signore qui è in prestito anche ad averlo trovato costa neanche 40.000 40.000 crediti sarebbero stati 40.000 crediti e poi e poi abbiamo la scelta giocatore 82 più quindi vediamo vai un bel pick Casillas Suso João Moutinho Haller questi ce li ho già prendiamo Haller eh si Casillas va bene sono tutti non scambiabili ok perfetto abbiamo trovato due toz ok secondo pacchettino mega vai peccato che non ci sia un simbolo per capire se è scambiabile o no c'è il pacchetto in sé occhio toz Inghilterra terzino destro aaa cavolo è della serie B è della serie B ma è scambiabile terzino destro con 91 di velocità 83 difesa non è male dovrebbe valere almeno 30.000 crediti e infatti vale neanche 15 forse 17 15 signori 15.000 crediti abbiamo trovato tre toz solo uno era buono allora io lo metto in lì lista trasferimenti e poi vediamo sbagliando magari FIFA occhio occhio oh è walkout guardiamocelo Messi oh ma ma perché perché mi deve trollare così argentina walkout oro argentina alla destra di Maria non è mai Messi portacci vostri giocatori rari sono 12 giocatori tutti oro tutti rari ultimo pacchettino per stasera e vai godiamocelo anche se farà schifo è lento non è nulla è una bandiera ma tedesco cc è proprio lui Nicola Savino non è che mi 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 Grazie a tutti